Ciao e bentornati su Ilaria Tutorial! Oggi prepareremo delle mini borsette in gomma eva. Serviranno gomma eva, un paio di forbici, cola a caldo e il cartamodello che trovate nella descrizione del video. Ritagliamo il cartamodello e riportiamolo su gomma eva. Nella parte retrostante, con l'aiuto di uno stuzzicadenti, marchiamo tutte le pieghe. Mettiamo un po' di colla ed iniziamo a chiudere. Prima questi piccoli e poi questi più grandi laterali. Ritagliamo una striscetta di un centimetro per 18 centimetri. Mettiamo la colla e attacchiamolo internamente. Per la chiusura consiglio un piccolo velcro. Ed ecco la nostra borsetta pronta per essere decorata. Vi sono piaciute? Provate a farlo anche voi e fatemi sapere attraverso i commenti. Ma non dimenticatevi di cliccare sulla campanella qua sotto per non perdervi i prossimi video. Ciao! Grazie a tutti!